Dov'è preso quel nome? Che? Lo sai, Key. Joker. Dov'è preso quel nome? Non lo saprei. Nello stesso posto di Batman. Dove stai andando? Ho sentito qualcosa. Dov'è pescato il nome Batman? Lo saprei. Lo stesso posto del pinguino. Che è stato? Frank, dov'è Bougie? Kim, dove sei? Mi hai chiamato. Di che si tratta? Joker ha preso mio padre. Forse è meglio chiamare Batman. Lui potrà... No. Joker ha detto che lo ucciderà se dovesse esserci Batman. Se gli succedesse qualcosa, non so che farei. Tranquilla, Barbara. Ce la faremo. Andrà tutto bene. Come fai a esserne sicuro? Beh, innanzitutto, io porto fortuna. Benvenuti al ranch, signore e signori. Oggi dovrete superare l'esame. Vediamo se riuscite a salvare in tempo il cittadino più esemplare di Gotham. Che ne dici di una mano? Tic toc. Tic toc. Dove guardano? Oh, barca, proti succori. Prendetegli aiutati. Barca, possiamo battare!